Lo sapevi che il piatto preferito dal gambero è la lasagna? Lo sai qual è la band preferita dai gamberi? No? I Beatles? Lo sai che i gamberi vanno al cinema in mutande? Se non sapevi queste cose, benvenuto nel regno dei gamberi. Il Gambero Podcast. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel primo episodio del Gambero Podcast. Oggi, come primo ospite, abbiamo un ospite d'onore. Iniziamo subito col botto. Edoardo Camponeschi, attore, voce narrante di Menestrandise, audiolibri. Innanzitutto, ciao Edoardo. Ciao, grazie per avermi invitato. Anzi, l'onore è il mio per essere appunto ospite della primissima puntata. È una cosa molto speciale. Sì, infatti. Volevo chiederti innanzitutto, da dove è nata questa tua passione per la narrazione o per la recitazione in generale? E questa è la tua idea del canale YouTube? Guarda, la passione per la recitazione è nata in maniera molto particolare, nel senso che non sapevo di averla perché mi sentivo dire, crescendo mentre ero a scuola ogni volta, sai che forse per te un corso di teatro potrebbe essere appropriato un po' per questioni di timidezza, un po' per evidentemente una propensione che io nemmeno sapevo di avere. Perché mi dicevano i miei professori, quando capita a tutti a scuola di essere lì, e ti dicono, ok, allora adesso tu leggi questo paragrafo, tu leggi quest'altro. E io ho sempre detto, sì, vabbè, figurati se mi vado a cercare un corso di teatro. Io, appunto, timido e un po' pigro, non lo nego. Me lo sentivo dire, me lo sentivo dire, me lo sentivo dire, finché poi un giorno ho trovato nella cassetta della posta di casa un volantino che pubblicizzava dei corsi di teatro, in un teatro che era letteralmente dietro casa mia. Tra l'altro casa mia era dove abitavo, nel palazzo dove sono ora, dove ho lo studio. Quindi, tra l'altro, è anche una bella coincidenza. Di Roma tu sei, giusto? Sì. Sei di Roma. Allora ho trovato questo volantino, diceva, iniziano i corsi di teatro a ottobre, a 100 metri da casa mia, due volte a settimana. Ho detto, ho capito, vabbè, allora vado. È per forza. Che devo fare. E quindi, niente, ci sono andato e da lì è iniziato tutto. Questo accadeva nel 2004, quindi è passato un po' di tempo. E per quanto riguarda la lettura, invece, vabbè, a me è sempre piaciuto leggere, in realtà. Soprattutto negli anni universitari, in cui facevo finta di andare a lezione, invece andavo al parco a leggere. Romantico. Più che altro non volevo andare a lezione. Non sapevo nemmeno quali lezioni ci fossero, perché ero talmente fuori corso a un certo punto che stavo diventando scemo. Poi ho finito, eh. No, metteremo una particolare censura per i tuoi insegnanti, vai tranquillo. Sì, infatti. Se lo ascoltano, loro lo sentiranno censurato, mentre gli altri sentiranno la verità. Oppure lì sono passati tanti di quegli anni. Che comunque, vabbè, la passione per la lettura, diciamo, c'è sempre stata. Come molti, magari, l'ho persa un pochettino, sai, magari negli anni del liceo, no? Cose così. Poi, invece, è tornata ed effettivamente è divertente perché era praticamente come mi hai detto tu poco fa, poco prima di iniziare l'intervista. Io ho iniziato, ho aperto Menestran Disney, il canale, nel 2011. E all'epoca avevo già lavorato, avevo già fatto un paio di stagioni nello stesso teatro dove ho fatto i corsi. Ho fatto i corsi per quattro anni. Poi il direttore del teatro ha messo su una compagnia e ha detto, ok, dai, ti ci butto dentro. E quindi avevo già lavorato per un paio di stagioni lì. E quella stagione, 2011-2012, il teatro era stato chiuso l'estate precedente per dei lavori. E quella stagione il direttore non poteva permettersi di produrre degli spettacoli, quindi lavorava solamente con delle compagnie esterne e quindi noi fondamentalmente siamo stati fermi. Cioè, tutti i miei altri colleghi hanno lavorato altrove. Io ho detto, vabbè, questo magari è il periodo in cui mi concentro effettivamente sull'università e me la tolgo di mezzo. E quindi ho detto, come hai detto tu, cosa posso fare? Nel senso, sono stato praticamente strappato da questa cosa che occupava tantissimo del mio tempo, sia tra le prove che gli spettacoli, che poi figurati, quando era, io avevo iniziato con loro a lavorare da 18-19 anni, i corsi li avevo iniziati a 16 e quindi mi ero ritrovato un attimino, no? Così nel 2011, ero un attimino sconvolto, ho detto, vabbè, mi compro, mi faccio regalare anzi, perché era Natale, perché me ne stradislo, ho aperto il 16 dicembre del 2011, mi sono fatto regalare tipo un bundle come quelli che ci sono adesso, solo che non era così semplice e ti compri una scheda audio esterna USB, un microfono e hai finito, lì c'era una scheda audio esterna che era Firewire, quindi collegata tipo ad un computer vecchissimo, perché era l'unico che avevo con la scheda Firewire un mixer, un microfono della Behringer e da lì ho iniziato facendo, leggendo racconti di uno scrittore emergente che avevo conosciuto appunto ormai dieci anni fa, per poi passare ai classici, poi sono passati dieci anni, eccoci qui. Fino alla Divina Commedia pubblicata. Fino alla Divina Commedia. E ma il nome da dove deriva, che è un nome un po' particolare, è quasi uno scioglio. Il nome è, sì, il nome è un po' particolare effettivamente, stavamo parlando con quest'autore e ci stavamo chiedendo ma come lo chiamiamo, come non lo chiamiamo, a me piaceva un po' l'idea del cantastorie, no? Il menestrello. Il menestrello, esatto. E quindi ho cercato un pochettino su internet e praticamente ho scoperto poi che con menestrandis si intendeva tipo una sorta di quasi tra virgolette gilda o unione appunto di menestrelli, di appunto di corte, musicisti, bardi in Francia nel medioevo, non mi ricordo precisamente quando. Quindi ho detto, bah, non mi dispiace come nome è pure bello altisonante, sai che c'è? Me lo prendo io. E poi nel corso degli anni, prima era solo menestrandis, poi naturalmente è diventato menestrandis audiolibri e ora ecco qua. Tu non hai iniziato con gli audiolibri, hai iniziato un po' con delle storie, no? Sì, sì, sì. Inizialmente erano solo racconti anche molto brevi, 5-10 minuti, racconti più lunghi, mi mandavano in crisi, non sapevo cosa fare perché poi tra l'altro chiedevo all'autore mandami dei racconti dove non ci sono dei dialoghi perché se no non so come fare, cioè sono io, non so come fare. E poi piano piano invece la collaborazione con lui piano piano è andata a scemare, lui aveva altri impegni e una volta finiti tutti quanti i racconti che aveva scritto, avevamo cominciato a lavorare su una serie insieme ma per via dei suoi impegni non riusciva a mandarmi più gli episodi, ne facevamo uno a settimana e non mi ricordo come si chiamava la serie perché tra l'altro ora non è più sul canale perché lui facendo tutt'altro ora mi ha chiesto di rimuoverli e giustamente li ho rimossi. E in un momento di fermo a loro ho detto, ah beh, che cosa posso fare? Iniziamo con altre cose, altri racconti classici, a me piaceva molto la letteratura gotica e quindi poi ho iniziato intanto andando avanti con dei racconti ed è una cosa che ho portato avanti per anni e anni e anni e però sì, principalmente i racconti gotici e quello ha dato un po' l'impronta a quello che poi è diventato il canale nel corso degli anni successivi insomma. Una bella impronta ha dato, diciamo. Parlando infatti ora di audiolibri, io ho visto, comunque tu pubblichi audiolibri, c'è il Gobbo di Notre Dame 17 ore e quasi un giorno, la Divina Commedia sono 10 ore, cioè io solo immagino, io ho provato a fare, come ti dicevo, ho provato a fare qualcosina, qualche audiolibro ma davanti al Gobbo di Notre Dame, la Divina Commedia, ma quante ore di studio, quante ore di... perché comunque, cioè una volta la devi leggere per forza, o no? Come funziona mentre si crea? Allora, non necessariamente, io ero di questa opinione prima di iniziare a lavorare professionalmente come narratore. Poi nel 2013 o 2012, non mi ricordo comunque, più o meno lì, un annetto dopo, un annetto e mezzo dopo aver, insomma, iniziato la mia attività qui, ho iniziato a lavorare come narratore presso l'Unione Ciechi di Roma. Loro hanno i loro studi perché registrano audiolibri per non vedenti, lo fanno da 50 anni ormai. E quindi io pure ho detto, vabbè, dai, mi daranno il libro prima, me lo studio, me lo sottolineo, mi preparo, no? Un giorno mi chiamano, dopo aver fatto, mesi dopo aver fatto il provino, e mi dicono, puoi venire mercoledì alle nove? Io ho detto, vabbè, mi dovranno ancora parlare, invece mi hanno detto, ok, questa è la cabina, siediti qua, questo è il libro, vai, leggi. E io ci sono rimasto malissimo, ho detto, come? Non sapevo nulla. Invece loro mi hanno spiegato che poi in realtà è quello che succede più o meno sempre, non ti danno il libro prima, devi essere in grado di leggere sul momento. E poi è ovvio che ci sono delle cose che richiedono molta più preparazione, come ad esempio la Divina Commedia, eppur con tutta la preparazione poi fallisci sempre, per forza, ci sono dei tratti in cui magari ti perdi, è inevitabile, siamo umani. Però ad esempio, no, per quanto riguarda il Gobbo di Notre Dame, in realtà tutti gli altri audiolibri un po' più normali, tra virgolette, no, non lo preparo prima, mi siedo lì, leggo e guarda, può sembrare che dici, ah no, ammazza, no, che bravura, che cosa. In realtà è semplicissimo. Io questo lo faccio per tante ore al giorno, tutti i giorni, da tanti anni. Quindi ormai, cioè, è come un qualsiasi altro mestiere, non vorrei distruggere, diciamo, il romanticismo della cosa, no? Perché io, no, sono un lettore pubblico. No, in realtà, cioè, ci sono dei giorni in cui funziono meglio, altri in cui nelle mie stesse letture magari si può sentire che vado più avanti col pilota automatico e quindi magari la lettura è un po' più meccanica rispetto ad altre volte. Magari altre volte la voce è un po' più stanca. Non sempre, ecco, abbiamo il lusso di dire mi prendo tutto il tempo che voglio per lavorare ad un progetto. Questo non significa che lo fai di corsa o in maniera poco attenta, però, ad esempio, per il canale dico, ok, devo registrare il gobo di Notre Dame, per dire, cioè, Notre Dame de Paris, scusami, e non posso metterci due mesi, perché se no poi, cioè, poi se no il pubblico che cosa gli do, si dimenticano, vanno altrove e, ripeto, non è che ti sbrighi, non fai le cose di corsa, ma allo stesso tempo però ti dai semplicemente, dici, oggi registro 40 pagine di questo libro e 40 pagine di quest'altro, e poi lo fai. Cerchi di ottimizzare i tempi. Esatto. Ma la scelta del libro come funziona? C'è qualche richiesta particolare oppure quello che ti capita? Guarda, è abbastanza casuale, in realtà. Allora, naturalmente bisogna rispettare le leggi per il diritto d'autore, quindi gli autori devono essere morti da più di 70 anni, varia in realtà di paese in paese, però diciamo che, perché ad esempio... Questa qua non la sapevo degli autori. Ebbè, certo, comunque il diritto d'autore esiste. Molti, infatti, mi chiedono perché non leggi i libri di Stephen King o di Martin alle cronache del Gaccia e del Fuoco. Ogni volta devo dire non posso perché non ho i diritti. Quindi io prendo i testi da siti come LiberLiber, quindi sono tutti testi al di fuori, insomma, nel dominio pubblico, al di fuori da ogni copyright. Quindi intanto quella deve essere la condizione di base. E poi dipende. A volte è casuale perché mi vengono consigliati dei libri. Io penso è fattibile questa cosa e controllo. È troppo lungo, non è troppo lungo. Ci sono delle edizioni, perché tra l'altro un'altra cosa da prendere in considerazione è anche la traduzione, perché anche sulle traduzioni ci sono dei diritti. Quindi se trovo un testo che è disponibile liberamente, allora lo posso leggere il libro. Quindi ci sono, diciamo, delle varie condizioni che devono essere rispettate. Spesso, ad esempio, per dirti, per farti l'esempio di uno degli ultimi audiolibri pubblicato a novembre, che ha avuto un successo completamente inaspettato per me, che è Le notti bianche di Dostoievski, è un romanzetto di due ore, una novella di due ore. Tra l'altro, secondo me, una storia d'amore anche abbastanza blanda, non è quello che mi aspetto io dalla letteratura russa. È esploso completamente, ma completamente, cioè ha fatto, ora credo stia oltre 120.000 visualizzazioni in poco più di tre mesi, che è una cosa assurda. E questo semplicemente me ne aveva parlato un anno fa una mia amica durante il primo lockdown, dicendo, oh me lo leggi questo che lo voglio sentire? Ho detto, sì, vabbè. Poi me l'aveva richiesto più avanti, più avanti, poi mi era ritornato in mente, ho detto, vabbè, sai che c'è, sono due ore. Poi, in questo caso, cerco di fare anche una stima per quanto riguarda la lunghezza dei libri per organizzarmi con la pubblicazione. Tipo, adesso sono avanti di due, tre settimane, perché ho registrato, dopo La Divina Commedia e dopo Notre Dame, degli audiolibri un po' più corti. Ne è uscito uno lunedì scorso di 40-45 minuti, che è un racconto di Pirandello. Ho già registrato un audiolibro di circa quattro ore, che andrà alla settimana successiva. Ho già registrato un altro di un'ora e mezzo, che andrà la settimana successiva. Sto lavorando ad un altro di media lunghezza, perché fra un mese e un mese e mezzo ho dei titoli molto lunghi, che ho intenzione di portare, e quindi, diciamo, molto spesso la scelta ricade anche su quello. Come dicevi prima, logistica e ottimizzare i tempi. Se poi, appunto, tutte le stelle si allineano, tipo disponibilità del testo, lunghezza adeguata, comunque edizioni reperibili, allora dico, ok, magari questo non me l'aspettavo, non l'ho programmato, lo faccio subito. Sì. E volevo chiederti del tuo autore preferito, però hai messo una foto su Instagram che me l'ha spoilerato. Io non lo conosco benissimo, ma perché non l'ho particolarmente letto. Ho letto un po' furore, ma alle superiori, giusto, qualcosina. Quindi non fragellarmi. No, figurati. Anzi, ti chiedo, cos'è per te Steinbeck e convincimi a leggere qualcosa oppure a approfondire meglio questo autore? Allora, innanzitutto c'è da fare un discorso un po' più ampio, secondo me, proprio anche a livello geografico. Steinbeck è uno dei più grandi esponenti della letteratura americana. Americana, sì. E nella letteratura americana parliamo di giganti come Nathaniel Hawthorne, che ha scritto la lettera scarlatta, Herman Melville, che ha scritto Moby Dick, che è considerato il grande romanzo americano, finché non è arrivato Steinbeck. Facendo questa premessa, comunque, perché non si può negare il fatto che esistano diversi stili provenienti proprio dall'area geografica. Quindi, se pensi a letteratura russa, appunto, magari pensi a Dostoyevsky, pensi a Tolstoi, a questi mega mattoni, quando in realtà poi ci sono delle cose anche molto gradevoli o leggere, come vedi ad esempio Le notti bianche, oppure alcuni scritti un po' più umoristici di Chekhov, per dire. Chekhov è un po' assoluto. Steinbeck, per me, è appunto un grandissimo rappresentante della letteratura americana, ma di una letteratura americana giovane, che rispecchia più quella che è effettivamente la loro società, che ha, diciamo, gli Stati Uniti d'America sono stati fondati nella fine del 1700, quindi che avranno 250 anni di storia, per dire nemmeno. Quindi, perché al contrario dei classici, io ad esempio adesso nel mio tempo libero sto leggendo L'ultimo dei Moicani, di James Fennimore Cooper, che ha una fatica infinita, che pure la lettera scarlatta era un pochettino così, un po' farraginoso. Steinbeck, invece, è crudo, è splendido. Secondo me è un'accuratissima rappresentazione proprio della vita. Se hai letto appunto un pochettino furore che tutta questa storia di questa famiglia che perde la fattoria e deve spostarsi verso la California per cercare lavoro, appunto, per sopravvivere e basta. E tu dici, vabbè, che storia è questa? Ma, appunto, nessuna storia, così come potrebbe essere nessuna storia, la mia giornata della mattina che vado, che esco di casa e vengo qui in studio, ma il modo in cui viene descritta ha una prosa fantastica. Allora, devo dire che io l'ho letto solo in inglese Steinbeck, quindi non ti saprei dire se poi effettivamente è tradotto. Però è, non te lo so dire, cioè, è così irreale, eppure appunto con un registro molto ricercato, non è... Ci sono dei libri che secondo me sono splendidi nella loro prosa, come vedi ad esempio l'ultimo dei Moicani, ma con questo registro così antico che ti rendono appunto un po' di difficile fruizione. Mentre invece Steinbeck, secondo me, è quel punto preciso tra questo tipo di letteratura e un tipo di letteratura moderna con un linguaggio molto più semplice, che però paghi questa semplicità, questa facilità di fruizione, la paghi magari con una perdita di bellezza, di poesia. Steinbeck, invece, è estremamente comprensibile nel suo stile, ma è comunque molto ricercato, non è assolutamente ridondante, non è pieno di sé. E io di suo ho letto tutto. Ti dico, proprio te lo dico tranquillamente, ci sono dei suoi libri più belli e altri molto meno belli, naturalmente. Come tutti. Sì, come tutti appunto gli autori che hanno avuto una carriera abbastanza piena. Lui ha pubblicato tantissimo. Ti posso consigliare, e per me è stato veramente quello che mi ha fatto rendere ancora di più conto quanto fosse per me speciale. C'è un suo libro che si chiama In viaggio con Charlie, che non è un romanzo, è un suo diario di viaggio, perché un giorno aveva deciso di prendere un camper chiamato Rosinante e di girare l'America con il suo cane Charlie. E quindi è lui che racconta l'America e basta. E avendo letto questo libro, dopo aver letto praticamente quasi tutti gli altri suoi romanzi, è stato quasi come se mi parlasse personalmente, perché era lui che diceva ho fatto questo, ho fatto quell'altro, ogni tanto si riferiva direttamente al lettore. E quindi è stato questo, diciamo, il culmine. È stato più un percorso, non c'è stato un libro solo che mi ha fulminato e mi ha fatto dire, ah ok, lui lo adoro. C'è stata più che altro questa evoluzione. Sì, beh, allora io mi ricordo, il furore ha una crudità assurda. Cioè ti racconta delle immagini che veramente devi un attimo... Non basta leggerle, basta. Lui quando le leggi veramente vedi cosa succede. Sì. Ma per quanto riguarda quello lì è un po' ronzinante, tipo il cavallo di Don Quixote, diciamo. Sì, sì, sì. L'aveva chiamato così apposta, sì. Apposta. Volevo parlare un po' di voce. Sì. Come, ovviamente magari la riscalderai prima di registrare, oppure se sei malato come me e io appunto, quando per dire sono allo stadio oppure c'è da urlare. Sono sempre, mi trattengo sempre perché ho paura che, dato che diciamo ci tengo, perché comunque un po' canticchio, un po' ci lavorerò con la voce e ci lavoro adesso, ho un po' paura magari di danneggiarla o perderla. Quindi qualche trucco per magari come la salvaguardi tu o se fai qualcosa. Allora, ti sembrerà strano, ma non faccio nulla di tutto questo. Cioè non faccio quasi mai esercizi. Per salvaguardare la voce in realtà bevo tanto tè caldo con miele e limone. Ma per il resto bisogna, come per tante altre cose, bisogna saperla usare e, come hai detto anche tu prima, bisogna sapersi regolare. Quindi tendo magari a non andare a, cioè se va dei concerti magari mi assicuro di non dover lavorare il giorno dopo tutto qui. Però sì, più che altro non faccio, sai, si parla molto magari di esercizi, di riscaldamento vocale. In realtà io non permetto quasi mai alla mia voce di raffreddarsi, semplicemente perché la uso tutto il giorno. Quindi certo, è vero che la mattina, magari i primi turni alle otto e mezza di mattina, fai un po' fatica. Però vabbè, io, ad esempio, il mio trucco, che poi trucco non è, che mi alzo un po' prima la mattina, faccio colazione, bevo qualcosa di caldo e chiacchiero un pochettino magari prima di iniziare a registrare e poi sono pronto ad andare, ecco. Sì, e parlando di voce, se vogliamo sfatare questo mito oppure confermare il mito che per narrare, per doppiare, per recitare, serve una, tra virgolette, bella voce, che ti dicono, eh, tu hai una bella voce, è facile. Io ritengo che... cioè, non sia del tutto necessario avere una bella voce. Bisogna saperla usare. E tutto qui. Anche perché, sai, io di questa cosa me ne sono reso conto quando tipo da Pischelletto, appunto intorno ai vent'anni, suonavo tipo una chitarra, no? E ci provavo almeno e mi rendevo conto, eh, ma la mia chitarra suona male perché non... sta chitarra fa schifo. Invece no, ero io che non la sapete usare. Su, scarsa. Eh, sì. Adesso ti può capitare di vedere su YouTube i video di quelli che suonano le chitarre di Hello Kitty che costano 80 dollari, per dire, eppure sono dei mostri. Vero, vero. Stessa cosa, guarda, si può fare un paragone perché ne parliamo spesso anche con altri miei amici, con altri colleghi. per quanto riguarda anche semplicemente un microfono. Tu puoi avere questo microfono che ho io o altri microfoni che costano un sacco di soldi, ma se poi non lo metti nelle condizioni giuste non suona bene. Stessa cosa, puoi avere un microfono un po' più modesto, ma saperlo utilizzare bene e tirare fuori un suono migliore. Quindi è ovvio che una bella voce ha i suoi vantaggi, naturalmente, rispetto a una che può sembrare sgradevole. Naturalmente poi ti sto parlando se uno ha una voce veramente sgradevole che gracchia come un corvo, allora magari quello è un altro discorso. Però l'importante è saperla usare. A prescindere dall'attività, perché comunque, come sai, doppiare, recitare, leggere i libri, fare qualsiasi altra cosa o dal vivo o registrato di fronte a un pubblico o meno, sono tutte cose completamente diverse. Quindi l'importante è, a mio avviso, trovare la propria nicchia, quello che ci piace fare, e fare in modo di dare appunto il meglio di noi stessi con quello che abbiamo a disposizione. Ci sono molte persone che magari provano, ti sarà magari capitato, sai, nell'ambito recitativo dove c'è un po' di arrivismo, magari persone che provano a far finta di essere quello che non sono, quindi magari anche ostentare una voce molto più profonda o impostata, poi dopo due minuti non ce la fanno più. Non bisogna per forza avere la voce profonda, la voce bella, cavernosa. Io conosco dei lettori bravissimi della mia età, o anche doppiatori bravissimi, più grandi, che hanno voci completamente diverse dalle mie e dalla mia, e con questo non vuol dire ha una e più bella dell'altra. Hanno usi diversi, naturalmente. Io so, personalmente, di non poter, che ne so, interpretare il ruolo di un ragazzino di 16 anni con sta voce che mi ritrovo, e viceversa. Quindi, secondo me, non piacciono queste distinzioni, perché sai, spesso è anche una cosa tipo ah no, tu questo non lo puoi fare, perché non hai determinate caratteristiche che sono fondamentali. È un, secondo me, un mettere dei paletti inutili. Sì. Io sono sempre stato un fan della, proprio della, della narrazione orale, del, del raccontare le storie, che è una cosa che l'uomo fa da quando ha inventato il fuoco, praticamente. Quindi, ritengo che lo possa fare chiunque. Ma infatti, l'esempio che tu hai fatto, mi è venuto, mi veniva da ridere, perché mi viene in mente, ad esempio, io che sono nell'ambito anche un po' calcistico, ti compri le scarpe di Ronaldo, sei Ronaldo, no? No. Se ti compri. Allora, ti dico la verità, ti dico la verità, che io comprando, per dire, magari delle scarpe, quando avevo 14 anni, compravo delle scarpe che magari vedevo usare dal mio idolo, dicevo, psicologicamente, un pochettino, però lui rimane lui e tu rimani lui. E certo. Certamente. Il discorso. Sì. Volevo, volevo chiederti, e anche parlare un attimo, a me succede questa cosa, per esempio, la potenza che ha un libro di lasciare un ricordo, ad esempio, su un, sul luogo in cui è stato letto, oppure, un, magari regalato da una persona, ti è stato regalato questo libro da una persona importante, e a me è successo, con un tuo racconto, La fattoria degli animali, di Orwell. Sì. Che per dire, quando è stato talmente forte quel ricordo, che io mi ricordo, è stato il mio primo viaggio da solo, in macchina, che sono andato a Bologna, e non ero da solo, ero comunque accompagnato dalla tua voce, dai personaggi, io mi ricordo, mi è rimasto impresso, Gondrano, Napoleon, mi sono rimasti impressi queste, queste figure, li vedevo, poi, poi, passavo magari in mezzo alle campagne, fantasticavo un po', anche, anche io, e volevo chiederti, se anche tu hai un, un libro in particolare, che ti ricorda un posto, un, una persona che te l'ha dato, che, questo libro è talmente forte, che, appunto, ti scatena questo ricordo. Guarda, non uno in particolare, ma, quasi tutti quelli che leggo, in, ma in realtà volevo dire, solo nel mio tempo libero, ma in realtà non è vero, quasi tutti quelli che leggo, perché, la lettura ormai fa talmente, parte, della, della mia vita, naturalmente, perché lo faccio per lavoro, quindi, leggo per tante ore al giorno, che, inevitabilmente, finisco sempre per associare, magari, dei, dei ricordi, a, a una lettura, al libro che sto leggendo, in quel momento, arriva al momento, quasi, in un punto in cui, non mi ricordo, il libro di per sé, ma mi, se mi viene in mente, che ne so, appunto, mi fa pensare, c'è un libro, in particolare, di Jonathan Safran Foer, che si chiama, Eccomi, che ho letto, qualche anno fa, e, ho altri libri, letti in quel periodo, che era un periodo, un po' difficile per me, quei libri, non me li ricordo, ma quei titoli, bastano, a farmi tornare in mente, quei sentimenti, quelle emozioni, che stavo provando, in quel momento, perché li ho associati, a quel libro, in particolare, e poi, così come ho detto, anche altre volte, che magari, è molto difficile, regalare un libro a qualcuno, perché un libro, magari parla a te, parla a te, non solo parla a te, ma parla a te, in quel momento, particolare della tua vita, quindi magari, sai tu regali un libro, a qualcuno, e dici, a me è piaciuto tantissimo, poi quelli leggono, le prime due righe, dicono, vabbè che palle, e lo accannano, e, la cosa appunto, è anche, il momento, in cui tu leggi, un particolare libro, perché tu poi magari, leggi una particolare frase, e dici, questa è scritta per me, è scritta per me adesso, quindi, sì, ripeto, mi dispiace, non darti proprio, una risposta precisa, che magari era quella, che ti aspettavi, però ho capito il discorso, sì, ce l'ho, sì, praticamente sempre, come quando mi capita, che ne so, a me piace, viaggiare molto in bicicletta, io ho fatto molti viaggi, in bicicletta, negli ultimi anni, e mi posso ricordare, magari, precisamente, un luogo, le sensazioni, di quel preciso momento, ma poi mi chiedo, ma dov'era, e quando era, perché tipo, la costante appunto, è il viaggiare lentamente, in bicicletta, no, e allora ogni tanto, dico alla mia ragazza, che viaggia con me, e dico, ma ti ricordi quel posto, dove abbiamo mangiato, che ne so, quella pastarella alla cannella, che c'era il fiume, c'era quel bambino, che tirava la palla, quindi quei dettagli, me li ricordo perfettamente, ma non mi ricordo, magari tutto il resto, e più o meno, con i libri, è così, ti si agganciano, solo, determinate cose, come tirare, non lo so, una palla di qualcosa, al muro, e vedere cosa rimane attaccato, ed è difficile, un po', distinguere, no, e dirti, che ne so, magari, sai, questa cosa, che tu mi dicevi, del viaggio in macchina, e del romanzo, c'è tutto un insieme, di elementi, secondo me, che si sono andati, ad unire tutti quanti, che hanno creato, questa sfera di ricordi, e tu dici, ok, c'era il viaggio in macchina, magari era il primo, da solo, la destinazione, i campi, e 1984, e allora, si è creato, proprio tutto questo, ricordo insieme, e diciamo, che se non fosse stato, scusami, non 1984, la fattoria degli animali, se non fosse stato quello, probabilmente, sarebbe stato, qualche altro libro, ma si vede, che era un momento, in cui eri particolarmente, ricettivo, a questo tipo di cosa, bellissimo, e hai centrato, il punto, perché ad esempio, ho ascoltato, invece, la metamorfosi, di Kafka, ed è stata tutt'altra, esperienza, comunque l'ho ascoltata, in treno, e comunque, comunque, il ricordo, in treno, le persone di fianco, il casino, io con le cuffie, ascoltare, o alcune volte mi perdevi pezzi, alcune volte saltavi internet, quindi, molto, molto bello, sì, e ti volevo, ti volevo chiedere, mentre registri, mentre crei, cosa provi, e quanto influisce, il fatto che tu sia attore, nella narrazione? allora, come dicevamo prima, non leggendo, i libri prima, non preparandomi prima, c'è una fortissima componente, di istinto, quindi, mi lascio molto andare, dal testo, mi lascio molto guidare, dal testo, e, quindi, cosa provo, in realtà, cambia, a seconda del, del testo, che sto leggendo, ma non mi lascio mai completamente coinvolgere, è un'attività molto, molto diversa dal, appunto, dalla recitazione teatrale, dove devi provare, o far finta di provare delle emozioni, per poi trasmetterle ad un pubblico, io, personalmente, ritengo che, la lettura, gli audiolibri, non debba essere recitata, deve, è una, è una cosa molto particolare, che molto spesso, viene fraintesa, in realtà, questa cosa, intanto, te voglio vedere, a fa dieci ore, di audiolibro, no? Ciao! E, cioè, non dico che sia impossibile, ma, secondo me, è anche controproducente, perché, allora, intanto, ti dico che queste cose, mi vengono, è una cosa con cui, ho dovuto combattere molto, quando ho iniziato a lavorare, come lettore, perché andavo all'Unione Ciechi, e volevo trattare proprio ogni singolo personaggio, come se fosse un personaggio da interpretare a teatro, e mi hanno detto subito, no, no, e, no, e, appunto, lì è gente che questo lavoro lo fa, sto collaborando adesso con un fonico, che sono 40 anni che registra audiolibri lì, quindi, presumo che sappia quello che sta dicendo, con questo non dico fare una lettura piatta come le voci artificiali, ma bisogna trovare un buon equilibrio, perché io dico sempre questo, a volte però, come ti dicevo, viene frainteso, perché sai, essendo comunque un lavoro, tra virgolette, artistico, è facile far subentrare il nostro ego, la nostra vanità, e dire più che altro, sentite me come leggo bene, ma non sentite quello che sto leggendo, sentite solo come lo sto leggendo, no? E, io sono convinto che il, che il lettore sia, lo sto rubando questa frase da, da Stephen King, l'ho letto in un suo romanzo ultimamente, dove c'era una persona che doveva leggere ad alta voce, che gli dicevano, tu sei il mezzo, non sei il messaggio, quindi io faccio sempre questo paragone, se tu vai in, in libreria e vuoi comprare un libro, no? E, tutti i libri sono stampati con lo stesso carattere, uniforme dall'inizio alla fine, perché sei tu il lettore poi, che devi pensare, cioè ti devi dipingere tu in testa l'immagine che il, che l'autore ti, ti sta suggerendo. Naturalmente c'è un minimo di filtro, perché questa cosa arriva da me a te, e è impossibile essere completamente neutrali in una narrazione. L'importante, secondo me, è far capire, distinguere i personaggi, per far capire, eh, chi stia parlando in un momento, cosa, cioè se c'è una narrazione, o se c'è un dialogo, questo è fondamentale. Allo stesso modo, ritengo sempre che non debba esserci in posizione. Ora, con questo non dico, questo è l'unico modo di leggere, questo è il modo in cui leggo io. E, perché, naturalmente, se tu guardi un film, basato su un libro, no? Tu stai guardando, la visione che quel regista aveva di quel particolare libro. Sì. E magari non è la stessa che hai tu. Perché, per farti un esempio, magari tu, Harry Potter, te l'hai immaginato in modo diverso. In modo diverso modo. Bravo, bravo, sì. Capito? Quindi, è ovvio che se guardi un film, è tutto un altro prodotto, perché c'è una produzione gigantesca, c'è la musica, ci sono centinaia di attori, magari, ci sono effetti speciali, e tutto quanto. Farlo per quanto riguarda un libro, soprattutto, il problema poi è che o sei veramente un trasformista, che sei in grado di fare mille voci diverse, ma arriverà sempre un punto in cui quell'equilibrio speciale e molto fragile tra lettore e ascoltatore poi si spezza. Perché ad un certo punto, tu magari, ascoltando la fattoria degli animali in macchina, ti lasciavi trasportare, presumo, dalla narrazione, ma non da me, da Orwell. Sì, chiaro. Hai detto, mi immaginavo delle cose, quindi magari, se in quel momento mi senti starnutire, per dire, o un qualsiasi rumore, quello, un attimo, ti toglie fuori dall'incanto, ti spezza l'incanto, e quindi poi hai bisogno di rientrarci. Stessa cosa, secondo me, può succedere con un'imposizione troppo forte da parte del lettore. Perché comunque poi arriverà un momento in cui ti rendi conto, sì, ma la voce è una. Quindi, magari, a un certo punto, senti che, pur di sembrare diverso, si spinge troppo oltre, magari fa una voce un po' troppo strana per dire, e quello ti può un attimo tirare fuori. Perché poi, a quel punto, dici, ok, ma se hai fatto così, allora perché non prendere un'altra persona per fare altre voci? E allora se ne è presa un'altra perché non prenderne altre tre? E allora dici, perché non fare un cast? Perché non stiamo facendo radiodrammi, stiamo facendo audiolibri. quindi bisogna naturalmente, tutto ha sempre una propria impronta in base che viene, insomma, da chi legge. Però io continuo a dire, tu magari apri un libro che tu compri appunto in libreria e a primo impatto vedi, oh che bello, è scritto tutto con caratteri diversi, tutto colorato diverso, perché un personaggio è rosso, un altro è blu, un altro è verde. Dopo un po' diventi scemo però e fai fatica a seguire perché la cosa più potente è l'inchiostro e non il testo che l'inchiostro deve rappresentare. E la stessa cosa appunto secondo me viene dalle voci, perché se a un certo punto c'è una voce è descritta in un certo modo e io decido di fare la voce così, tu solo così la senti, perché io ho deciso che tu la devi sentire così. E chi sono io per dirti quello che tu devi sentire? Hai ragione, sì. Quindi io ci provo ad essere neutrale, con questo appunto diverse persone magari fraintendono e spesso mi capita di leggere commenti su YouTube che dicono ah che lettura piatta, poi dopo poco leggi gli stessi che dicono no, lettura troppo interpretata mi fa schifo. Quindi alla fine tu dici senti, io trovo il modo mio a chi piace piace, a chi non piace non piace quando vado ad ascoltare altro. Dunque infatti, ma hai ragione, sì hai ragione, l'immaginazione è fatta così, io magari mi immagino un personaggio fatto in un modo perché magari il libro te lo descrive e poi dopo arrivi tu, fai un dialogo e dico ah ma questa voce qua, questa voce qua. Stessa cosa se pensi magari ai libri che hanno delle illustrazioni in mezzo, allora tu vedi questo, un personaggio rappresentato in un modo e tu dici però nella mia testa era in un altro modo. Vero. O magari non ci avevi nemmeno pensato troppo, ma poi vedi un'illustrazione o una voce o un'interpretazione e poi è quella. Non te la puoi non te la puoi togliere via dal cervello poi è quella per forza. Quindi per quanto possibile cerco di non fare di non fare questo. Ma sono gusti comunque. Beh è chiaro, sì. Volevo approfondire un attimo l'ultima domanda per fare qualche consiglio e qualche trucco per fare un audiolibro quali strumenti necessari imprescindibili bisogna avere per dire che ne so un computer un microfono e poi una curiosità mia ma se l'audiolibro se il libro lo leggi cartaceo oppure davanti al computer che ti va l'immagine. Allora intanto rispondo a quest'ultima parte perché è più semplice e leggo da qui ho un tablet vedi con un con un bel braccetto che io mi tengo sotto al microfono e leggo da lì all'Unione Cechi leggo dai libri cartacei principalmente mi piace di più leggere così col libro cartaceo perché mi dà più un senso di di progresso mentre vado avanti dico ok devo leggere da qui a qua lo vedo quante pagine sono prima leggevo dal computer e diventavo scemo a parte che stavo sempre così a guardare lo schermo ma più che altro perché non non cambiando pagina col tablet un pochino c'è il gesto del cambiare pagina no non cambiando pagina stai sempre lì che scrolli è passata un'ora e mezza ti sembra di aver letto tipo pochissimo invece no e poi vabbè però con la carta c'è sempre il problema che devi stare un po' attento non devi fare rumore allora per quanto riguarda quello che che serve per per registrare gli audiolibri come dicevo adesso esistono tantissimi bundle che possono essere acquistati in maniera abbastanza economica e quindi se si vuole fare appunto al computer un computer portatile una scheda audio esterna e un microfono basta servirebbe solo quello oppure c'è anche chi registra con microfoni portatili e poi dopo si mette al computer e fa tutto l'editing dopo taglia e cuce e questo per quanto riguarda la parte tecnica secondo me la cosa fondamentale però serve tanta voglia di raccontare una storia e un un grande amore per la lettura non non nel senso di lettura asservita a noi e ai nostri scopi ossia ti voglio leggere un libro per farti sentire quanto so bravo o per diventare famoso c'è chi lo fa e insomma ma in tutti gli ambiti e per alcuni funziona per altri no io non voglio criticare niente di questo però secondo me l'amore per la lettura questa passione è fondamentale per poi resistere sai tante ore magari chini su un testo o vedere magari specie se si fa se poi queste cose si pubblicano su youtube magari vedere una crescita lenta ma costante insomma rendersi conto che la cosa di base è l'amore per la lettura d'alta voce e creare qualcosa di bello che può anche essere ascoltato da una sola persona che però quella sola persona come c'è aver sentito questo tuo racconto che mi hai detto cioè a me basta sapere quello non devo sapere ah l'audiolibro è stato ascoltato da otto miliardi di persone basta sapere che a una persona ha fatto una differenza solo quello quando poi si diventa soddisfatti di quello della lettura di per sé dell'amore per la lettura e di diffondere questa lettura o il messaggio scritto da un autore quello non te lo può leva a nessuno quello nessuna cosa nessuna critica nessun non lo so nessun numero in calo che ne so di views di iscritti di traffico niente te lo può togliere se parti da quello io questo lo faccio perché mi piace farlo chiaro e poi il fatto che sia diventato un lavoro naturalmente è un enorme vantaggio e non mi metto a dirti no io lo faccio solo per l'arte ma una certa l'arte non è che mi fa la spesa giustamente ho la fortuna di poter fare solo questo come professione di qua di l'altre cosette piccoline ma alla base di tutto questo c'è il mio amore per la lettura è quello serve quello è una goduria personale nel leggere il libro e anche dato che tu come mi hai detto lo leggi praticamente insieme a noi c'è anche una sorta di stupore magari ci sono delle scene che tu non ti aspettavi c'è una sorta di stupore tuo personale guarda personalmente non voglio fare alcuno spoiler ma finire Notre Dame per me è stato un trauma perché io avevo visto solo il cartone della Disney non è per niente così e quindi sono arrivato alla fine e stavo e credo che questo e credo che questo si senta e quindi sì è vero è vero e niente Edoardo io ti ringrazio non so come ringraziarti per questa opportunità che ci hai dato a tutti i nostri ascoltatori e passiamo ora ai saluti e anzi andate a ascoltare almeno uno un audiolibro suo bisogna ascoltarlo io ve lo dico personalmente che io comunque non sono tanto amante della lettura però ascoltarlo è anche più piacevole da una parte un libro un racconto e quindi passiamo ai saluti grazie Edoardo grazie a te grazie a tutti i ragazzi per l'ascolto grazie a tutti i ragazzi